No, Lucia, no, non sto cercando di dirti niente. Sì, sto cercando di dirti che Emilia mi ha lasciato. Ma che c'entra mia madre? Ma vuoi tacere, vuoi spar zitto! Emilia, sei lì? Sì, tu fermi. Le apro ancora di più, vedi? Sì, mamma, certo che mi ha detto perché. Si è innamorato di un altro. Ma io so, sento che non è vero. Marisa? Ciao, sono Anna. Non potrei venire a stare qualche giorno da te? Emilia? Emilia, l'ho lasciato. È chi ha dormito qui un suo amico quando era fuori e l'è venuta a sapere. Noi non gliel'avevamo detto, capito? Dio, ma perché mi invento queste cose? Emilia non è mai stato geloso. Antonio, tu lo sai esattamente cos'è un codice privato? Anna, cara, protetto dal segreto, eccomi qui a confessare. E a confessarti tutto il mio più che amore. Ma allora perché? Fermo, non muoverti. Aspettami. Lo so che ti piace, dai. Sei un'idiota, sei il più idiota di tutti gli idioti. Dai, continua, continua, ti prego Emilia, Emilia. Pronto, Antonio, tu sei quello che Emilia vedrà per primo quando torna da Belgrado, vero? Ecco, allora gli dici che io non sono una cosa che prima non c'era, adesso c'è perché qualcuno l'ha fatta e allora c'è anche il dito di disfarla, svegliarsi una mattina e dire basta. Io, io sono Anna.